oggi cominciamo a parlare della bibbia bibbia per principianti o bibbia per incapaci come si potrebbe definirla ma realtà è un cercare di capire cosa è la bibbia chi ha fatto la bibbia perché la bibbia racconta determinate cose e non altre queste sono le domande che spesso mi vengono fatte sui miei canali youtube ma soprattutto la bibbia parla veramente di alieni parla veramente di popoli la bibbia è un libro morale la bibbia è un libro solo cristiano tante sono le domande da porsi quando si affronta una scrittura antica ma la bibbia soprattutto non è un libro è un insieme di libri potremmo definirla una libreria completa veramente di tanti libri e allora la domanda che viene è ma chi li ha scelti questi libri e siamo sicuri che siano i libri giusti come mai sono stati scelti questi libri e alcuni sono stati scartati quale è il motivo ma questa serie cercherà di chiarire molti dei vostri dubbi una curiosità su tante lo sapete che nella nella bibbia vengono citati altri libri dei quali purtroppo non è possibile averne copia nessuno sa che fine hanno fatto qualcuno si sa ma è irraggiungibile ma cosa c'è scritto allora in questi libri parleremo anche di questo parleremo dell'ebraico perché la lingua antica in cui l'ebraico antico in cui abbiamo trovato la maggioranza dei documenti poi ne abbiamo trovati in greco qualcuno in aramaico e ovviamente in latino tutti questi testi hanno riportato circa le stesse cose quindi questo dà più veridicità al racconto della bibbia però prima di entrare in tecnicismi che cercherò di toccarli solo leggermente poi per chi è interessato può benissimo fare delle ricerche maggiori anche grazie a questo strumento di internet cercherò di raccontarvi la bibbia nel modo più semplice possibile ma dandovi dei dati delle curiosità degli aneddoti che vi permetteranno di capire come la bibbia non sia un libro solo cristiano ma sia un libro dell'umanità è stato messo come uno dei libri della memoria dell'umanità da parte dell'unesco cosa ci racconta la bibbia come possiamo vedere la bibbia tutti questi libri inclusi nella bibbia perché molti danno interpretazioni diverse chi parla appunto come dicevamo di alieni chi parla di antiche civiltà chi parla di giganti chi parla di cose inennarrabili epiche in realtà la bibbia noi dobbiamo leggerla come una storia uno storytelling che oggi piace tanto come termine che ci racconta il rapporto tra l'uomo e dio dall'inizio alla venuta della nuova novella alla venuta di gesù e quindi indicazioni anche per il futuro e noterete come riscontreremo come l'umanità non sia cambiata affatto da allora come l'umanità pur usando una lingua diversa termini diversi avere sensibilità diverse fondamentalmente è rimasta la stessa identica ovviamente va fatta una premessa a tutto questo affronteremo la bibbia da un punto di vista documentale da un punto di vista storico anche da un punto di vista del messaggio ma lungi da me affrontare la bibbia dal punto di vista teologico o biblistico nel senso stretto di studiosi della bibbia sarebbe troppo complesso troppo complicato e servono delle basi per poter capire e che ovviamente non tutti hanno questa cosa un'altra premessa un'altra premessa è quella di cercare di vedere i racconti della bibbia le testimonianze della bibbia attraverso gli occhi della gente di allora quindi con una moralità completamente diversa con una visione della vita completamente diversa dalla nostra i testi soprattutto quelli antichi vanno giudicati conoscendo gli usi e costumi non solo traducendo quello che c'è scritto conoscendo il perché venivano utilizzate alcune parole e vi citerò parecchi esempi attraverso i quali voi capirete come la lettura della bibbia conoscendo delle basi è sicuramente molto più corroborante e interessante che leggerla così come un passo ogni tanto e cercando di capirne solo il racconto morale inizialmente la bibbia di morale l'antico testamento non ha poi molto ma soprattutto si evincerà come dio utilizza come portavoci della proprio della propria narrazione della propria del proprio rapporto con dio spesso gente completamente immeritevole secondo il nostro punto di vista odierno esattamente ed è vero quello che vi dico dio si è servito dell'umanità peggiore esseri a volte cattivi a volte contorti esseri non proprio intelligenti alle volte un pochino sono tontoloni dei veri e propri idioti ma non non me ne vogliate se vi dico questo perché c'è un motivo per tutto questo e ve lo svelo da subito il motivo è che se dio ha avuto rapporto e ha trasformato i suoi campioni sulla terra delle persone di discutibile morale e delle persone sicuramente che noi non considereremo mai dei santi è stato proprio per darci un messaggio chiaro a tutti noi e indipendentemente dal nostro passato da quello che abbiamo combinato della nostra vita siamo stati buoni siamo stati cattivi eccetera è concesso il rapporto con dio è concessa quella che chiamiamo dal punto di vista cristiano la redenzione e quindi siamo tutti possibili anzi siamo tutti figli di dio come ci racconta la bibbia e vedremo perché e per come ma un altro quesito che viene a questo punto è quale bibbia per esempio abbiamo la bibbia del dio dati bibbia di odati che è una bibbia tra virgolette protestante che è uguale alla bibbia cattolica alla bibbia della cei per capirsi la conferenza episcopale italiana ma addirittura le manca un libro che adesso è stato introdotto abbiamo la bibbia etiope che ha un libro in più il libro di enoch che è rimasto anche nella nostra bibbia come canone per due secoli dopo è stato tolto vedremo il perché anche di questo insomma cercheremo di capire come questo strumento questo libro dei libri che è il libro più stampato al mondo più venduto al mondo più tradotto al mondo ma forse è anche il meno letto in proporzione tenete presente che noi abbiamo ben quattrocento traduzioni complete e due mila e duecento traduzioni parziali della bibbia quindi è un indiscusso best seller per dirla all'americana abbiamo circa 50 milioni di copie vendute all'anno solo in italia se ne vendono tra le centocinquantamila e le duecentomila copie in un anno quindi tantissime nel negli ultimi tempi nella laicissima norvegia è stato il libro più venduto nel 2012 per esempio il libro più venduto è stato la bibbia se dio fosse un autore sarebbe il più ricco e il più famoso scrittore di best seller dell'universo visto la quantità di libri venduti poi c'è appunto la bibbia della cei poi ci sono tutta un'altra serie di bibbie ci sono anche delle bibbie semplicemente tradotte e non limate arrotondate dal punto di vista teologico ci sono poi da capire il perché e per come di alcune traduzioni diverse la bibbia ebraica per esempio che è grande e che è solo l'antico testamento la torà è il pentateuco per capirsi però ha una numerazione diversa dalla nostra perché alcuni libri che noi dividiamo in libri singoli lei li considera un libro solo ecco io cercherò di parlarvi nel modo meno tecnico possibile e nel modo più semplice possibile ma perché tutte queste informazioni anche tecniche ci servono ci servono per capire se quello che leggiamo nella bibbia è vero oppure è un racconto di fantasia oppure vuole indicarci una strada un percorso oppure tutti ci hanno raccontato delle falsità ci serve per capire che gli elohim non sono degli alieni ma che in ebraico antico come in ebraico moderno alcune parole non hanno il singolare ma hanno solo il plurale un po' come quando noi io che sono un vecchio babbione come potete vedere come quando i genitori erano i cavalieri di Vittorio Veneto quindi chi combattende la prima guerra mondiale i figli davano i genitori del voi voi caro padre voi cara madre che se un ragazzino di oggi sentisse dare del voi penserebbe che ci fossero più persone davanti a lui invece che un'unica persona ecco che per esempio non c'è la parola avviso ma c'è la parola visi cioè facce non c'è faccia c'è faccia ecco che invece che signore c'è la parola signori quindi elohim ma ha anche un'altra traduzione elohim vedremo un po' di queste curiosità così da essere in grado di distinguere le cose dal vero e le cose invece mistificate o comunque facilmente fraintendribili allora abbiamo detto però ci sono una serie di Bibbie infinite quale dobbiamo prendere? allora tenete presente che in base anche alle versioni degli anni in cui sono state pubblicate le Bibbie hanno delle modifiche hanno delle modifiche prettamente per aggiornarle al modo di parlare al modo di capire alle nuove parole ciò nonostante incontreremo comunque dei modi di dire difficili e come vi dicevo dobbiamo immedesimarci nel pastore di duemila o trevila anni fa dobbiamo immedesimarci nel maestro della fede di duemila trevila quattromila anni fa dobbiamo immedesimarci nel cittadino medio di allora con tutti i suoi concetti e preconcetti un periodo in cui le donne erano dei possedimenti delle proprietà non me ne vogliano le care signore che mi seguono che sono molte ma era così pur nonostante la donna in famiglia comandava cioè all'interno della casa era la donna che comandava solo il marito le poteva essere sopra per certe decisioni ma era la donna che comandava però la stessa stregua la donna poteva essere anche ripudiata o se volete l'uomo poteva fare quello che voleva in sordina ma la donna guai quindi c'era questa sperequazione tra l'uomo e la donna ma non solo c'era questa sperequazione anche nei confronti dei pastori o di quelli che venivano chiamati servi che era una via di mezzo tra gli schiavi e uomini liberi che però per motivi economici praticamente facevano gli schiavi ecco e quindi c'era una differenza tra queste persone le donne e i pastori non potevano testimoniare in tribunale e la loro testimonianza non aveva valore giuridico ad esempio gli uomini entravano nella sinagoga le donne dovevano osservare dalle finestre esterne la lettura della Torah quindi vediamo tante altre cose un'altra curiosità la Bibbia è stata spedita con uno degli Apolli con l'Apollo 17 sulla Luna all'interno di un microfilm ecco questa è un'altra piccola curiosità che possiamo sapere della Bibbia allora noi sappiamo che la Bibbia viene divisa in Antico Testamento e Nuovo Testamento il Nuovo Testamento è praticamente Gesù la storia di Gesù la sua narrazione e quello che lui ci viene a portare e contrariamente a quello che si pensa Gesù non viene a portarci una religione che esiste già la religione ebraica ma viene a portarci la fede e vedremo anche questo capiremo tante cose all'interno di questa Bibbia e lo so che il testamento in italiano non è molto funzionale nel senso perché sono stati chiamati Antico Testamento e Nuovo Testamento perché origina dal latino testamentum che vuol dire patto alleanza quindi il Vecchio Testamento o Antico Testamento è la Vecchia Alleanza e il Nuovo Testamento è la Nuova Alleanza cioè Gesù viene a rinnovare il nostro patto con Dio quindi vedete come le cose piano piano si definiscono come si comincia a entrare nel bud del biblista avendo alcune conoscenze tecniche ripeto cercherò di essere il meno tecnico possibile ma cercando piano piano di entrare e capire la Bibbia nella maniera più semplice possibile e non lo so quante puntate arriveremo non lo so quanto sarà lungo e difficile questo lavoro mi accicco come voi a fare il pioniere voi come ascoltatori io come relatore di questa scoperta di questa ricerca sarà sicuramente un lavoro lungo se vorremmo vedere tutta la Bibbia insieme e sarà sicuramente interessante scoprire tante tante cose faccio un altro paio di esempi giusto per incuriosirvi e poi per oggi finiamo qua perché non voglio ingolfarvi di nozioni ma sicuramente i video sulla Bibbia saranno lunghetti tra i 20-30 minuti ogni puntata forse qualcosa di più forse qualcosa di meno vedremo perché non si può staccarci fra le altre cose vedrò se potranno essere messi come altri video su che voi potrete ascoltare come podcast su YouTube Studio perché non ci sarà grande come dire grande visualizzazione se non la mia povera persona ma voi dovrete chiudere gli occhi e immaginarvi di essere 5.000 anni fa 4.000 anni fa 2.000 anni fa in oriente e cominciare a vedere le cose che accadono ma non solo quindi questo sarà il nostro viaggio partiremo insieme voi sapete che io ho un secondo canale che si chiama il pirata quindi tutti a bordo che cominciamo questa avventura allora vi avevo detto però che vi vi incuriosivo con altre due cose allora noi siamo abituati a pensare ai santi o alle persone o ai personaggi biblici come delle grandi persone con altezza morale altissima delle persone veramente toste da questo punto di vista in realtà così non è hanno i loro difetti e spesso sono più i difetti che i pregi e facciamo un esempio con il secondo re dei re cioè il primo re dei re è Gesù che è il re dei re il secondo è Davide è il re Davide re Davide che praticamente si innamora della moglie di un suo ufficiale dell'esercito e quindi ha con lei i vari rapporti una volta che ha la signora resta incinta cerca di mascherare la cosa facendo dare un permesso a questo ufficiale che venga a casa e vada a letto con sua moglie così che lui può come dire avere la giustificazione se questa poi ha un figlio ma questo signore che è molto ligio al suo dovere dice che non deve divertirsi lui mentre i suoi compagni sono in battaglia e quindi resiste tanto è vero che a un certo punto re Davide organizza un festone una cena dove fanno ubriacare questo ufficiale il quale così sarebbe stato circuito dalla moglie questo ufficiale conscio di non essere in grado di gestire la situazione invece che andare a casa a dormire quindi a giacere con la moglie dorme su una panchina di marmo fuori da casa e quindi gabba questo progetto di Davide e della sua concubina quindi allora Davide perde la pazienza il re Davide cosa fa chiama il comandante dell'esercito e siccome devono fare un attacco frontale a una città fa mettere in testa questo attacco questo ufficiale e così avviene e l'ufficiale ovviamente muore viene ucciso ecco che Davide che è considerato un re importante uno degli iniziati della fede non è certo una persona priva di peccati o priva di grandi errori noi siamo abituati a pensare a suo figlio il re Salomone come un grande personaggio vi sapete la storia di Salomone e il bambino delle due mamme allora a un certo punto si presentano da Salomone in udienza un giudice con un bambino e due mamme che lo tengono una per un braccio e l'altra per l'altro braccio e il giudice spiega la situazione al re Salomone e dice io non posso giudicare allora non c'era il test del DNA ovviamente e ognuna delle due mamme riclamava quel figlio o quel bambino come proprio figlio quindi di chi era veramente figlio o quel bambino non c'erano carte allora non c'era carta di identità non c'erano insomma sistemi così evoluti di identificazione e quindi il giudice diceva che lui non riusciva a giudicare re Salomone ci pensa un po' poi chiama una guardia una sua guardia che c'è lì vicino al trono si fa dare una spada prende la spada e dice siccome non riusciamo a sapere chi di voi è la mamma taglierò questo bambino in due e ognuna di voi avrà metà bambino così sarete tutti e due contente perché il giusto è il giusto allora una delle due donne si spaventa e dice no 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 il bambino è suo è suo figlio è suo figlio che lo tenga pure lei allora cosa fa Salomone fa imprigionare l'altra donna e dà il bambino a questa qua che dice no no che lo tenga l'altra perché solo una vera madre purché non sia fatto del male al suo figlio rinuncia perfino al figlio stesso ecco che Salomone era un grande saggio però finisce i suoi giorni facendo l'idolatra adorando idoli finti idoli statuette d'oro anche lui e quindi non più con questo rapporto con il Dio unico ecco che queste sono cose che noi piano piano conosceremo e vedremo facendo questa passeggiata nella Bibbia scrivetemi qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questo nuovo obiettivo che ci perfiggiamo insieme se lo trovate interessante e se vi fa piacere spiegato così come lo sto spiegando in questo momento ci sentiamo in prossimo video iscriviti al canale mettete like condividete i video sui vostri social date una mano crescere vi aspetto anche sul pirata il mio secondo canale dove conversiamo più tra amici o sul canale telegram dove c'è una chat dove tra di voi vi raccontate tra di voi vi parlate e ogni tanto alcune cose che non si possono dire tutte tutte proprio su questi tipi di social ce le diciamo lì tra di noi comunque tutti i link li trovate in descrizione sotto ogni video un caro saluto ciao a tutti da Ermanno ciao a Grazie a tutti.